Uomo e creato, dialogo tra le fedi. In apertura della pagina spezzina di avvenire di questa settimana trovate le riflessioni che sono state fatte a conclusione del mese dedicato al creato. L'evento conclusivo si è svolto in piazza Abrin e si è parlato soprattutto del tema dell'acqua e della forza della natura. Domani inizia l'anno pastorale, la messa solenne sarà celebrata nella cattedrale di Cristo Re a partire dalle 15 e 30 dal vescovo Luigi Ernesto Palletti concelebreranno i canonici e i sacerdoti della diocesi. Nuovi corsi a via Malaspina riprende anche quest'anno l'attività del centro cultura e tempo libero che ha sede appunto in via Malaspina alla Spezia. Proseguono quindi le attività di formazione per gli adulti trovate le attività previste. A centropagina Carlo Lupi insegna ancora un ciclo di incontri guidati da ex alunni dell'Istituto di Scienze Religiose e ora insegnanti nel ricordo del loro direttore Carlo Lupi che si è spento circa tre anni fa. Il primo di questi incontri si terrà martedì prossimo 10 ottobre alle 18 nei locali della parrocchia di Santa Maria Assunta. Sarà invece sabato prossimo 14 ottobre nell'oratorio della cattedrale di Cristo Re l'incontro rivolto a tutti i sacerdoti e gli animatori dei gruppi adulti promosso dall'ufficio catechistico diocesano e dal settore adulti dell'azione cattolica. A fondo pagina Don Pino la forza cristiana di un sorriso un ricordo di Don Pino de Bernardis che si è spento nei giorni scorsi a Chiavari all'età di 90 anni. E infine alcuni incontri su guerre e paci nel 300 in Val di Magra. Parliamo di due eventi dedicati appunto alla storia della Val di Magra e dell'antica diocesi di Luni. Trovate gli appuntamenti previsti. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.